Tre giorni di zona gialla, tre giorni in cui anche i centri commerciali potranno tenere aperto senza particolari restrizioni. È il caso del Valdichiana Outlet Village che nonostante la finestra di Toscana Gialla sia così breve, non rinuncia a vivere il Natale a pieno. Fino a mercoledì 23 dicembre dalle 10 alle 20, gli oltre 130 punti vendita della Land of Fashion saranno aperti per lo shopping di Natale. Tre giorni dedicati ai regali, ma non solo, anche ad un'opportunità pratica e un momento di distrazione dai bollettini quotidiani sulla pandemia. L'intero village sarà avvolto nello scintillio evocativo di un'illuminazione che quest'anno è più ricca che mai. Tutto accadrà nella massima sicurezza. Ad accompagnare lo shopping ci saranno infatti speciali procedure igieniche come la sanificazione dei negozi e lungo le vie del village, negli spazi comuni, dispositivi per il controllo dei flussi di accesso nei vari negozi rispetto della distanza minima di sicurezza e verifica della temperatura corporea. La caccia all'ultimo regalo di Natale è ufficialmente aperta.